Buongiorno a tutti, sono Nike e benvenuti o bentornati sul guide. Questo è il The New Year Book Tag. So che siamo a marzo, quindi l'anno è già iniziato da un po', ma dettagli. Anche in questo caso, come il book tag precedente, avevo già le domande e il link del video dove avevo preso le domande, ma ho perso il foglio, quindi ho ricercato il tutto, ma questa volta ho preso le domande da un blog, di cui trovate il link in descrizione, è un tag composto da 8 domande, no 6 scusate, direi di iniziare subito però. Domanda numero 1, quanti libri hai intenzione di leggere nel 2020? Come per il book tag precedente, parto da un numero un po' basso, anche perché poi con la scusa che voglio leggere diverse saghe, mi sarà più facile arrivare a 20 e cercherò di superarlo, però partiamo con un numero fattibile, perché come vi dicevo, io vado un po' ad alti e bassi con la lettura, nel senso ci sono periodi che leggo di tutto, cioè, estraleggo, e dei momenti che magari non leggo per un bel po' di tempo, quindi ci andrei cauta e dico 20. Domanda numero 2, nomina 5 libri che non sei riuscita a leggere nel 2019, ma che avrà nella priorità nel 2020. Allora, il primo che vi cito, non ce l'ho qua fisicamente, ma ho un libro della... perché? Come vi dicevo, voglio leggere diverse saghe. Il primo che vi cito, il primo romanzo di una saga, non ho qua fisicamente quel libro, ma ho uno che fa parte di questa saga. Il libro in questione si chiama solo il numero 4. Io però ho questo libro qua, tutti per uno, che fa parte della saga ed è il numero 4. Gli autori sono Pitacus Lore, che sono due autori. Io avevo visto il film solo il numero 4, e, tra l'altro, il protagonista di quel film è quello che ha fatto il film a Bessley con Vanessa Adjans. Io avevo amato talmente tanto quel film, solo il numero 4, che poi, informandomi, ho trovato che c'è questa saga, letteraria, e non sono ancora riuscita a recuperare solo il numero 4, ma ho iniziato a recuperare... cioè ho trovato questo, quindi ho detto, piano piano mi recupero la saga e la leggo. Quindi direi solo il numero 4. Poi, sempre rimanendo in tema saghe, l'anno scorso ho comprato questo libro qui, Shatter Me, di Taere Mafi, non so la pronuncia, scusatemi, è stata terribile, edito dalla Rizzoli. Tra l'altro la copertina è veramente bellissima. So che alcuni l'hanno amato, altri l'hanno odiato, quindi voglio comunque leggerlo. Dicevo, edito dalla Rizzoli, a prezzo pieno costa 16 euro, ma io l'ho trovato scontato, se non sbaglio, e ha un totale di 391 pagine. Voglio leggere tutta la saga, ma direi di iniziare con questo qua. Invece, per quanto riguarda questo qui, tutti per uno, non mi ricordo che libro è della saga, cioè se è il secondo, il terzo, non mi ricordo. A prezzo pieno costa 18 euro. Questo qua dovrebbe essere il settimo della saga. Dicevo, a prezzo pieno costa 18 euro, ha un totale di... ed è stato pubblicato nel 2016. Poi, terzo libro che voglio leggere, anche in questo caso il primo di una saga, si tratta di The Queen of the Tirling, non so la pronuncia, di Erika Johansen, copertina veramente stupenda. Sia questo qua, sia questo, li ho presi entrambi insieme da Amazon. Quindi mi era arrivato il pacconico con i due libri. Edito da Multiplayer Edizioni. Allora, costa 19 euro e ha un totale di 387 pagine, quindi questo qui. Poi, cambiando totalmente il genere, direi questo qui, Blacksman, di Ron Stalwart. Ero rimasta affascinata dal trailer del film di... come si chiama il regista? Di Spike Lee. E purtroppo il film non l'ho visto, però ho recuperato il libro. Questo l'ho pagato 5 euro scontato, se no a prezzo pieno costa 16 euro. Ho un totale di 196 pagine ed è stato pubblicato per la prima volta nel 2014. Ma questa è l'edizione del 2018. E tra l'altro, se non sbaglio, questo qua è il figlio di Spike Lee, quindi Blacksman. Ultimo libro che vi cito io per questa domanda è questo qui. I numeri di Satana di Reyes Calderon. Deve essere spagnolo, pensa l'autore. L'ho pagato 5 euro e 58, ma a prezzo pieno costava 18 euro e 60. Edito dalla Nord. Ha un totale di 499 pagine. Anche questo è un'autora che non avevo mai sentito, ma sono curiosa di leggerlo. Domanda numero 3. Nomina un genere che vorresti leggere di più. In questo caso direi i distopici, perché bene o male i libri storici o thriller ne leggo abbastanza. Invece fantasy e distopici ne leggo pochi, quindi in questo caso direi i distopici. Domanda numero 4. Tre obiettivi che non riguardano i libri che vorrei sostenere nel 2020. In questo caso vi dico, obiettivo numero uno è vedere più... Sono comunque obiettivi che hanno a che fare con film e serie tv. Il primo obiettivo è vedere più film di Tom Hardy, perché è il mio attore preferito in assoluto. Ci sono altri attori che mi piacciono come Kylian Murphy, Gary Oldman e un altro di cui non mi ricordo il nome perché l'ho scoperto da poco. E dicevo, sebbene Tom Hardy sia il mio attore preferito in assoluto, però ho visto pochi sui film o serie. Quindi direi vedere più film e serie tv suoi. L'obiettivo numero 2 è vedere più serie tv in generale. E l'obiettivo numero 3 è vedere più film in generale. Domanda numero 5. Un libro che hai da una vita e che devi ancora leggere. In questo caso vi dico questo qui, Il figlio di Ramses e di Christian Jacques, la tomba maledetta. Allora, vi avevo già nominato dei libri ambientati nell'Antico Egitto di questo scritto qua. Perché lui ha fatto questa saga qua, perché questo è il primo di una saga ambientato appunto in Antico Egitto. Però lui ha già fatto una saga precedente a questa, sempre a metà nell'Antico Egitto. E avevo iniziato l'altra saga. Poi però, essendo che io la maggior parte dei libri che leggo li prendo in biblioteca, avevo iniziato quella saga, composto da 5 o 6 libri, non mi ricordo. Però mancava il secondo, quindi l'avevo un attimo messo da parte per cercare di recuperare il secondo volume. Però prima di iniziare appunto quella saga io avevo preso questa. In realtà poi dopo ho scoperto che c'è quella che è precedente. E infatti nello stesso discorso che vi ho fatto nel book tag precedente, cioè questa si potrebbe leggere tranquillamente senza aver letto l'altra. Però io voglio fare le cose fatte bene diciamo. Quindi voglio prima finire con la saga e poi iniziare questa. Quindi questo qui. Sesta e ultima domanda. Una parola che vorrei se rappresentasse il tuo 2020. Direi lingua straniere. Perché vorrei leggere più libri in lingua straniera, sia vedere più firma e se è tv in lingua. Quindi direi lingua straniere. Bene, queste erano le risposte del tag. Spero che vi sia interessato. Fatemi sapere qua sotto che cosa avreste risposto voi e se avete già letto oppure no i libri che vi ho citato. Se li avete già letti fatemi sapere che cosa ne pensate. Mi piacerebbe che ci fosse più dialogo tra di noi. Quindi fatemi sapere cosa pensate di questi libri, se li avete già letti o se avete intenzione di vederli. Fatemi anche sapere se il tag vi è piaciuto oppure no e che cosa avreste risposto voi. Se rifate il tag in video, lasciatemi il link del vostro video qua sotto nei commenti. e in descrizione trovate il link del blog da cui ho preso le domande. Vi ringrazio per aver visto il video. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così rimarrete aggiornati su tutti i video che carico. E qua in descrizione vi lascio anche il link dei miei vari profili social dove potete trovarmi. Vi ringrazio ancora e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!